Elite Darkside, tre sezioni con innesto put-in, queste sono due fuoriserie del surfcasting, molto molto potenti, grazie a questo tipo di innesto ci permette di avere un pedone sovradimensionato, quindi di un diametro maggiorato, con uno spessore di carbonio notevole che conferisce al fusto una grande rigidità, inoltre il fusto è avvolto di uno speciale materiale che ne aumenta le prestazioni dinamiche in fase di lancio, la canna è molto conica, quindi il pedone di un diametro abbastanza grande, che diminuisce di diametro man mano andiamo verso la punta, questo ci permette di avere un'azione molto molto di punta che si presta questo manico così robusto anche a lanci angolati, tipo il ground o il side molto angolato. La gamma put-in in tre sezioni è composta da soli due modelli, 4,30 a 170 grammi e 4,50 a 210 grammi. Ambedue le canne sono canne molto molto potenti, ideale per la lunghissima distanza o per il mare mosso. Abbiamo anche la possibilità di avere tutte le canne darkside nude, quindi solo il blank senza gli anelli, per personalizzare il montaggio. Adesso montiamo un mulinello e andiamo a vedere come si comporta in fase di lancio. Come tutte le darkside, anche la put-in 170 grammi, ha la vetta molto sensibile e questo è importante soprattutto quando ci troviamo di fronte ad un mare mosso e vogliamo pescare con un piombo abbastanza leggero per non spiombare.